Recinto pieghevole comporta da 61 cm, per animali domestici, per dare un posto al vostro animale, è un recinto spazioso, quindi non è sacrificato, ha ampio spazio per girare, semplice da montare e smontare. Anche per quando si deve lasciare da solo l'animale, per andare a fare la spesa, per evitare che distrugga la casa per dispetto, perché lo avete lasciato solo, è un prodotto Prime, e chi è Prime non ha nessun costo alla consegna. In più è Black Friday scontato del 33%, buona la qualità prezzo, lo consiglio, vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon.